6 destra 50, 3 sinistra stringe, buona fortuna! 5, 4, 3, 2, 1, via! 6 destra 50, 3 sinistra stringe. In 6 destra, apre, in 3 sinistra. In 4 destra, apre, in 50. Crinale piatto, 50, 4 sinistra stringe. In 3 destra molto lunga, apre su incrocio. In 3 sinistra su crinale, in 5 destra. In 4 sinistra su abballamento, apre su crinale, 40. In 4 sinistra, 40. 5 destra stringe, 3, molto lunga, 40. In 3 sinistra, apre, in molto lunga, stringe, in 3 destra lunga. In 6 sinistra, apre su crinale, apre lunga, 30. In 5 sinistra. In 5 sinistra, su crinale, 60. In 5 sinistra, apre, in 10. In 6 destra, molto lunga, su crinale, 40. 6 sinistra, su crinale, 30. Tieni il centro, su crinale, salto. In 6 destra, e in 3 sinistra lunga. in 3 destra stringe 50 su trinale in 3 sinistra stringe in 3 destra stringe 2 in 5 sinistra 100 su tossi 4 sinistra molto lunga stringe e 4 stretta a destra e tieni la sinistra su 30 4 destra tieni su trinale 30 3 destra su trinale apre molto lunga stringe in 3 sinistra molto lunga apre centrale su trinale 50 6 destra su salto forse 30 resto 5 sinistra su trinale e 6 destra in attenzione 6 sinistra stringe 3 in 3 strette destra 50 tieni la destra su trinale 40 3 sinistra stringe in 4 destra su appallamento lunga in 6 sinistra molto lunga su trinale 70 appallamento in attenzione 4 sinistra stringe su trinale in 6 destra 30 6 sinistra su trinale con salto apre 80 80 su lossi 4 sinistra molto lunga in 3 destra stringe 40 presto 6 sinistra apre su trinale lungo 60 60 tieni la destra su trinale in 4 sinistra stringe in 4 destra lunga apre centrale su trinale attenzione 30 2 destra lunga stringe apre 50 50 finale in 6 sinistra lunga stringe 2 lunga 30 6 destra 30 su traguardo 5 sinistra allo stop allo stop gli pneumatici hanno reso bene in questa tappa 6 6 6 6 8 10 11 12 15 15 16 16